Buongiorno a tutti, dal vostro Roberto Nitro, il Swiss Nitro Ressi. L'argomento di oggi di cui voglio parlare è gli aiuti che ci sono alla guida. Tutti questi dispositivi elettronici, dagli ADAS a discorsi di guida livello 2, quindi aiuto alla guida, nella guida di tutti i giorni. Sono effettivamente utili a guidare meglio o vanno bene per un discorso di sicurezza ma fanno disimparare quello che uno ha imparato se l'ha mai imparato. In questo video vi voglio dare le mie esperienze, la mia esperienza sul campo come istruttore di guida in pista, quello che trovo e che ho trovato in questi anni riguardo ai clienti che abbiamo avuto in società. Ma prima vi invito a supportare il studio di questo canale su Slippro Ressi e adesso inviando la stica. Bene, cominciamo col dire che le auto sono diventate sempre più pesanti e più potenti. Una volta un'auto con 150 cavalli era già un'auto sportiva, quindi un'auto già abbastanza aggressiva, abbastanza vivace. Adesso con i tonnellaggi che ci sono in giro è un'auto piccola, quindi per avere un'auto un po' sportiva bisogna superare agevolmente i 250 cavalli se non di più con i pesi che ci sono ad oggi. Questi pesi non sono dovuti solamente al fatto che magari uno acquista un'auto ibrida e quindi c'è un pacchetto di batterie in più o un'auto elettrica, quindi ha tutte le batterie disposte all'interno dell'auto e quindi sono macchine estremamente più pesanti. Diciamo che concorre anche a questo peso tutta la tecnologia e il comfort che noi vogliamo su queste auto. ma il comfort non impigrisce, non fa disimparare quello che si è imparato magari negli anni di guida o il comportamento reale della macchina. Beh, quello che vi posso dire io in base alla mia esperienza di istruttore è questo. Gli ADAS, tutti questi dispositivi elettronici di sicurezza per anche controllare tantissimi cavalli sono dispositivi estremamente utili. Alcune macchine sarebbero inguidabili a livello di cavalli per quanti cavalli hanno e quindi sarebbero estremamente inguidabili e non gestibili nella vita di tutti i giorni. Però questi dispositivi secondo me a parte la sicurezza che è una cosa validissima e ci deve essere fanno disimparare da quello che ho visto sul campo la guida in pista. Da noi se il cliente che arriva se è un cliente giovane ha iniziato subito su questi tipi di auto magari non c'è più adesso la possibilità magari di iniziare su una macchinina piccola sulla possibilità di avere una macchinina pochi cavalli, poca elettronica dove uno può farsi le ossa come abbiamo iniziato noi ma magari gli danno subito la macchina dei genitori macchine a 50-60 mila euro che hanno tutti i dispositivi elettronici e chi è giovane si abitua a guidare con le auto naturalmente nel suo tempo. Queste auto sì sono estremamente sicure però non fanno imparare a guidare quindi io stesso ho riscontrato molti ragazzi che non hanno sostanzialmente l'idea di cosa la macchina fa e anche quando gli si dà in mano una macchina come le nostre che non hanno dispositivi elettronici proprio fatte per fare imparare la vera guida cosa succede? Che la utilizzano male o non la sanno utilizzare magari acceleratore dato a strappo un'accelerata che non è mai in progressione ma è appunto come un interruttore accendi e spegni quindi la macchina va un po' a colpi a degli squilibri di guida estremamente violenti e difficilmente controllabili e quindi cosa succede? Succede che il rischio dell'incidente è dietro l'angolo addirittura molti che hanno queste nuove auto dove c'è la modalità drift quando gli si chiede di driftare magari o di sbandare chiamiamolo in italiano con una macchina senza controlli e magari solo con trazione posteriore non sono capaci la macchina completamente gli si gira vanno in testa a coda e gli si spegne anche quindi tutto questo per dire che l'elettronica serve per dare una sicurezza un aiuto ma uno dovrebbe cercare sostanzialmente sempre di allenarsi per avere sempre il comando del proprio mezzo non fare in modo che guidi il computer come nelle Tesla americane o che guidi il dispositivo elettronico che freni tanto non faccio quello che voglio alla guida perché tanto ho la frenata assistita e quindi frena lui casomai se io sono distratto ecco questi sono atteggiamenti il delegare all'elettronica sono atteggiamenti secondo me estremamente pericolosi e anche nelle macchine con estremi cavalli e a giorno d'oggi con l'avvento delle macchine elettriche non bisogna andare solo sulle supercar anche la Kia ha una macchina di 600 cavalli tranquillamente quindi io mi trovo a gestire delle potenze che l'elettronica non riesce a vincere sulla fisica quindi i livelli sono talmente alti che io quando perderò la mia macchina è troppo tardi non riesco più a recuperarla ma non perché magari non sono super esperto non sono il senna della situazione ma anche senna avrebbe avuto delle difficoltà a tenerla quindi perché l'arrivo, l'altezza, la potenza è estremamente elevata e quindi è difficile poter mantenere la macchina in traiettoria o saperla gestire a quella velocità e ci vogliono ben altri riflessi quindi io do la mia esperienza sulla pista sulla pista ho sempre visto che le persone di una certa età magari hanno perso un po' di mistichezza di riflessi ma dopo qualche giro in pista si ricordano la doppietta si ricordano come gestire l'acceleratore in scalata come effettivamente usare il freno come modularlo come accelerare in maniera consona come girare il volante in maniera reattiva e non essendo completamente pietrificati ciò che invece mi rendo conto le persone più giovani sono così hanno l'idea che magari vedano dei videogiochi o hanno magari sostanzialmente una falsa impressione di padronanza del mezzo proprio perché l'elettronica glielo dà traction control, ESP, ABS addirittura torque factoring che mi tiene in curva cioè tanti dispositivi che si aiutano una guida molto facilitata ma secondo la mia opinione fanno perdere la reale guida quindi questo non è un video ci sarà sicuramente che vorrà commentare immediatamente dicendo oh ma i dispositivi di sicurezza sono indispensabili ci vogliono o aumentano la sicurezza tutto vero non sto dicendo questo sto dicendo che però a mio giudizio e quello che vedo sul campo stanno facendo perdere la guida la reale guida il sapere cosa il dispositivo di sicurezza fa anche per azionarlo quando serve non mi è mai capitato con la guida la frenata assistita nelle macchine moderne che magari alcune volte il dispositivo frena in maniera troppo insistente che è troppo consistente per l'ostacolo che magari c'è davanti quindi è estremamente prudenziale magari succede magari perché non l'ho regolato bene la distanza perché non l'ho settato al meglio tutti questi dispositivi quindi bisogna capire bene prima cosa fanno come agiscono sul mezzo e poi magari utilizzarli quando servono come aiuto ma sapendo sempre cosa effettivamente uno sta facendo e innanzitutto avendo sempre il controllo sul mezzo che si sta guidando molto importante non delegarlo mai a una macchina che può sbagliare magari sbaglia perché noi stessi l'abbiamo non capendo cosa fa l'abbiamo appunto come dicevo settata nella magliera sbagliata bene il nostro video finisce qua spero che vi sia piaciuto che vi dia uno spunto per magari commentare qua sotto dire la vostra opinione e soprattutto capire qual è la base del ragionamento che volevo intendere cioè non è che i dispositivi ADAS o i dispositivi di aiuto alla guida a livello 2 non siano sicuri e non siano fondamentali per la sicurezza il problema è di non disimparare a guidare delegando ciecamente tutto questi ma utilizzando le proprie capacità quindi sapendo che un determinato dispositivo se io lo attacco effettivamente so che cosa fa e quindi sono sempre reattivo alla guida non mi metto in maniera passiva come su un taxi quindi non mi resta che salutarvi invitarvi ancora a supportare il nostro canale su YouTube dare un'occhiata anche sul nostro canale Instagram e perché no seguiteci anche su TikTok per piccole perle e curiosità nel mondo dell'auto alla prossima ragazzi grazie a tutti